Grazie a tutti. Grazie. Qual è il segreto di questa pizza che si gonfia così bella? Allora l'impasto è normale, è semplicemente quello del pane, soltanto che il calore della pietra e la fiamma sopra creano questo distacco della pizza alla pasta che la fa taccare al centro. Adesso vediamo come si gonfia e dentro rimane vuota. Questa qua in antichità la usavano per la prova del forno prima di gocere il pane. Quando c'era la fiamma e succedeva di questo, cioè la pizza si gonfiava, il forno era a temperatura perché prima non c'era. Era a temperatura per poter inserire il pane, togliere la fiamma e inserire il pane. La differenza diciamo di una focaccia? La differenza di una focaccia è che se noi non abbiamo un forno a legna con la fiamma viva non verrà mai. Possiamo fare anche un esempio, io tolgo la fiamma e non si gonfierà mai. Oppure io raffreddo la pietra sotto e soltanto l'impasto tra sotto e sopra per evitare la questa fiamma. Voi la faccio in vari modi? In vari modi, usiamo tutti gli ingredienti biologici. Questa farina è biologica macinata a pietra, è di tipo zero. Farina zero, acqua, lievito, madre, addirittura con il lievito madre. Con il lievito madre. Ora se vogliamo vedere il suo interno, facciamo il rispetto. Vediamo un portello, per favore. Rimane croccante. Croccante? Ecco qua, facciamo un esempio. Ecco qua. Bella e buona. Io profumo. L'hiavito madre e voi come l'avete fatto? Lo rigeneriamo sempre con un piccolo, siamo una piccola dose e lo rigeneriamo sempre. Questa mia che c'è sta festa? Questo qua è il quarto anno, il quarto anno consecutivo. Ok, quindi invitiamo tutti quanti a Beiano per la pizza a fiamma. Tutti quanti a Beiano per l'ultima settimana di luglio, all'incirca, tutti gli anni. E se qualcuno la volesse mangiare in pizzeria? In pizzeria a Beiano abbiamo il Capifuoco, che è una pizzeria che produce pizza a fiamma. Da noi è molto nota. La pizza a fiamma di Beiano. Il prodotto di Vigo è registrato alla Regione Lassi. Grazie.